Siamo qui con Vlado Minzo. Vlado, è stato un po' difficile per te. È stato un po' difficile per la season. Cosa hai dovuto fare questo momento per iniziare a nuovo? Come hai detto, è stato un po' difficile per noi. Alcuni giocatori non avevano mai visto che è un grande derby per il Milano. È un grande rivalry. Scusi. È stato finito. È stato finito. È stato finito. È stato finito. In generale, siamo arrivati al giocatore. In biggería, in più, è stato che se spettiamo. È stato finito anche, è stato fortale. È stato un momento per poi, perché la scuola molto utile. È un po' di più. Sabe a scopo in Italia. Sette prima delle finestre. Inatablei ozore, in ciò, a partire. All'Europa quello. È stato finito. La scuola è finita. È un po' di più. È stato importanti. È stato un po' di più. È stato un po' di più. Non è difficile di riuscire e di riuscire, perché i soldi non possono continuare. Mi chiede di lavorare più e di lavorare più, ma bisogna di riuscire più a riuscire.